musica ok eccomi finalmente di nuovo qua come potete notare ho fatto una piccola base diciamo qui dove ho lasciato Rudolf e teoricamente questa è la seconda parte del video di Bo, penso di ieri vediamo un po' Sky è a posto noi dobbiamo riempirci un attimo le boracce ok quindi questa è fatta riempiamo anche quest'altra velocemente perfetto e ora l'unica cosa rimasta da fare è trovare un lupo magari diciamo da solo perché a quanto pare anche se sono solo in due sono potentissimi quindi è un grosso problema vediamo un po' se possiamo ripararci dei pezzi di armatura si decisamente dobbiamo ripararci di queste robe se no moriremo male ok casco riparato ripariamoci anche il resto questo e quest'altro ripara ripara perfetto vediamo le scarpe pronte anche i pantaloni pronti fatta ora abbiamo l'armatura in pelle completa dobbiamo ripararci anche un po' il piccone lo ripariamo subito di materiali siamo così così ora ci può ancora bastare qui ho messo a cucinare anche della carne se non sbaglio si fatti perfetto e ora siamo diciamo quasi di nuovo attrezzati per affrontare la zona elevata non è del tutto vero perchè effettivamente mi manca l'armatura di pelle che serve apposta per più la zona però prima o poi la faremo cosa cavolo ho fatto? non finta la torcia ho sbagliato a schiacciare ora già ci penso devo ancora provare se la torcia nella zona elevata faccia caldo o meno è un bel esperimento che farò tra poco decisamente vabbè spegniamo il fuoco riprendiamoci la legna non si sa mai la carne questi quattro pezzi li diamo a sky ecco qua perfetto ora sempre in sella di sky andiamo nella zona elevata anzi o meglio torniamo nella zona elevata lì c'è ancora la airdrop solo che dentro non c'è praticamente nulla se non ricordo male avevo visto dei lupi tipo qui sulla destra però lì c'è anche un t-rex perché quello è un lupo se uccido il t-rex posso tamare il lupo che è praticamente là o se no quasi tamerei anche il t-rex perché per viaggio di ritorno mi serve un po' di cavalleria pesante non saprei comunque ora stiamo congelando meglio la notarci un attimo per decidere cosa fare ok qui torna la zona calda perfetto fermati sky allora mangiamo giusto un po' e vediamo un po' la situazione da lontano no da di nuovo riesco a vedere i t-rex nel lupo quindi proviamo ad avvicinarci giusto un po' fucile da secchino alla mano vediamo un po' non li vedo ancora e dai sono qua ah eccolo allora quello è il t-rex il lupo non lo vedo ma comunque dovrebbe essere tipo là in zona questa piccola isoletta è abbastanza tranquilla quasi faccio un campo base qua no non saprei poi vediamo comunque quello dovrebbe essere un lupo no mi pare che sia una arena si infatti è una arena che tra l'altro sta venendo in questa direzione quindi mi sta portando praticamente il t-rex qua più o meno no si è bloccato quasi quasi faccio un bel campo base qua direi ne ho veramente bisogno vabbè ratoglio un po' di materiali e faccio questo piccolo campo base e noi ci vediamo tra poco ok come vediamo qua come potete notare ho costruito questa piccola casetta speriamo che ci protegga almeno dal freddo si decisamente l'ho fatto è finito sky ora che ci penso se non sbaglio ero venuto più oddio no 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 ma lezione non è vero non ero venuto più sky l'avevo lasciato là giustamente ma ci ho dimenticato in realtà potevo tamarla tra sabertooth però su un momento vabbè l'abbiamo uccisa vediamo se da la pelle no 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 peccato comunque come potete notare anzi come stavo dicendo ho costruito questa piccola casetta chiamiamola così e ora piazziamo anche la porta perfetto e siamo più o meno protetti dal freddo vediamo se riesco a farmi anche un campfire spero di sì dov'è no però ci manca flint no flint ce l'abbiamo ci manca stone touch vabbè vado a raccogliere non è vero perché sto morendo di fame quindi mangia mangiamoci un altro pezzo di carne non si sa mai ok raccolgo un po' di stone e un po' di touch e noi ci rivediamo dopo ok eccomi qua ho raccolto giusto un po' di stone e un po' di touch ora vediamo di craftarci il campfire velocemente abbiamo trovato anche un metal vabbè ce ne sono dettagli 6 vediamo di piazzarci subito il campfire sennò moriamo di freddo mettiamoci giusto un po' di legna 6 dai accendiamolo cuciniamoci anche un po' sta carne dato che abbiamo preso la sabertooth però abbiamo comunque freddo maledizione il campfire al momento pare nella zona nevata non riscalda problemo problemino comunque comunque possiamo almeno cucinarci la carne cos'è questa? è una cana marcia vediamo come va un altro pezzo di carne perfetto vediamo un attimo fuori il t-rex è ancora là e io sto già congelando chiudiamo la porta fa differenza? no o si? no si fa differenza vabbè andiamo la porta allora riscaldiamoci un attimo vediamo un po' ora aspetto che si cucini tutta sta carne noi ci vediamo tra poco ah prima buttiamo questo perfetto anche questo tanto non ci serve perfetto il t-rex mi pare incastrato però anche abbastanza lontano quindi casomai lo tiriamo verso di qua non è una grande idea però se vogliamo tamarlo dobbiamo portarselo qui vicino carne se ne falta un'altra perfetto malezione sta allargata da palco vediamo se riesco a tirarlo se il sparo muore speriamo di no o se no posso provare con la palestra sempre se non ci sono sti cagli frame pazzeschi non credo di coprirlo però ci proviamo no infatti l'abbiamo mancato tantissimo molto probabilmente vediamo di sparare un colpo di fucile no non lo saprei il problema è che qui in mezzo c'è l'acqua e se provassi fare una corsa si dai proviamo allora per fortuna ci sono questi pezzi di viaggio galleggianti che forse stanno affondando affondano questi pezzi in serio vediamo lì c'è il prossimo pezzo di ghiaccio sbaglio i pezzi di ghiaccio spariscono dopo un po' come solo non ho l'impressione non sono sicuro dai direzzi vieni qua aspetto vediamo se riesco a colpirlo non è mai vero non riesco a colpirlo uffa ok pezzi di ghiaccio non devo cadere troppo in acqua se no i squadri mi sbranano male mi mangio anche un pezzo di carne giusto per direzzi vieni qua ha lezione a te sbaglio o intestrato no dai non puoi farmi questo il gioco mi vuole male oh 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 c'è la renna ferita vuol dire si è renna certo c'è il cer eh si è una renna perché lo chiamo cerro qua è tipo un'arena sì effettivamente cosa c'è un altro t-rex oh mio dio la cosa non mi va bene quanti t-rex ci sono c'è uno che sta combattendo contro un achilosauro ci sono degli agentavis c'è il mondo qua quel t-rex là effettivamente è incastrato vabbè io tiro quell'altro t-rex verso di me almeno ci provo non mi caga seriamente oi questa situazione è un po' strana scusa mio amico t-rex ti dispiace venire un po' più qua però è giusto leggermente addormentarti sai non dico che si è incastrato pure quello dai ma stiamo scherzando oh no si è liberato st'altro aiuto scappa 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 un nero cotto diavolo dov'è è ancora là vorrei provare ad attirarlo però sto già finendo la vita eh sì ora si mettono insieme questi due no 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 sta cosa non è fattibile dai uno dei due venga qua per favore sto combattendo contro un lupo che vorrei tanto tamare madonna la velocità del lupo vabbè io tolgo un attimo il campo base tra blulette perché se no muoio male alta salta da qualche parte qui c'erano pure dei squali quindi da cosa non c'è ancora meno sta arrivando tipo una tormenta di nero quindi brutta storia dai 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 so che sto togge l'angolo lo so ok siamo arrivati siamo arrivati siamo più o meno salvi entriamo chiudiamo ci sta pure facendo notte brutta cosa è finto il legno no vabbè spegniamo il fuoco eh se spegno il fuoco si conge la maledizione vabbè buttiamo tutta la legna qui nel fuoco speriamo di resistere un po' di più mangiamo qualche pezzo di carne l'ideale l'ideale sarebbe stato farsi l'armatura in pelle prima di venire qua però pensavo che questa zona fosse leggermente meno pericolosa a quanto pare non sbagliavo vabbè provo ora a togliere un po' di legna giusto alla velocità della luce se no che muoio male dai speriamo che sky e rudolf siano bene beh tipicamente li vedo anche da qua sono lì vediamo allora rudolf più o meno dovrebbe essere sicuro sky è parcheggiato laggiù vabbè nel caso sky uccide tutti come sicuramente avete visto nel scorso episodio sky è riuscito pure a uccidere due lupi tutto da solo mamma mia la sua potenza la legna da ardere l'ho presa vediamo di mettere un po' perfetto però stiamo congelando comunque questa cosa non mi piace neanche un po' vabbè a sto punto vabbè riprendiamoci la legna e spegniamo il fuoco ce ne torniamo un attimo in una zona calda e questo accampamento che ora lo lasciamo qua ieri non c'era tutta sta gente dai sì perché effettivamente la seconda parte di sto video lo sto registrando praticamente il giorno successivo non c'era tutta sta gente ma dai vabbè che può essere utile però non è certo al massimo incontrare tutta sta gente ancora prima di iniziare il viaggio di ritorno allora il canosauro quasi quasi lo tamo perché effettivamente non l'ho mai tamato e tra l'altro e poi diciamo che è una buona scorta per il viaggio di ritorno vediamo è un canosauro normale giusto ma è un canosauro sì oddio ne ho visto ne ho visto ne ho visto scappa 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 oh 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 sta buono sta buono sta fine ah l'abbiamo già buttato giù vabbè ho aumentato la dino resistance quindi vanno giù prima però non è che sia stato il massimo 5 secondi di seguimento sono tipo durati una vita uccidiamo sta renna perché mi serve carne ovviamente ovviamente anche pelle si dà anche pelle molto probabilmente se infatti solo 8 pezzi di carne eh non ci siamo mica si metterà una vita tenga per fortuna ho portato anche dei narcotici però non credo che siano sufficienti se non troviamo altre carne cos'è quella ah c'è una carbonemis che quasi quasi lascerei perché finché sta là e non fa niente diciamo che lo possiamo usare anche come diversivo quindi ci sta sky è là rudolf è là diciamo dilophosauro maledetto dilophosauro se mi viene rompere scatola sky giuro che ti faccio secco anzi no ti faccio secco comunque lo sai dilophosauro caro venga qua anzi cambio di idea lo tamiamo effettivamente mi serve un po' di gente per il viaggio di ritorno con quale carne effettivamente ne sono dimenticato basta dire effettivamente vabbè uccidiamo un po' di pesci tanto danno carne quindi ci sta 16 pezzi di carne troppo potente sto pesce mamma mia vabbè facciamo un caccia ai pesci si sta abbiamo preso tanta ma tanta carne non mi aspettavo che pesci di essere preso tanta carne tenga 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 che cavolo è 4 di lo fusauro ma porco giuda mi ha fatto venire un mezzo infarto vabbè vediamo vediamo se è un inventario qualcosa no non posso entrare prendiamoci la carne prendiamoci la carne tenga la carne anche di sto suo parente vabbè sono solo dettagli vediamo di chiamarla boh non saprei la maschera è femmina femmina vabbè chiamiamola lo saprei arancino si allora ci sta vediamo è su neutral no mettiamo la neutrale fogging ok perfetto vediamo come va il carnosauro che è di là ma non stipisci che sta nel mezzo la strada il timing va avanti per fortuna la prime meat aiuta anche un bel po' basta che mangi l'altra prime meat ed è fatta vediamo se posso potenziarla no è solo livello 2 non durerà molto diciamo che è solo un dinosauro in più che verrà sacrificato purtroppo ecco qua abbiamo chiamato il carnosauro il carnosauro che se non sbaglio è un maschio se effettivamente questo vorrei portarmelo a casa non è male avere un carnosauro mettiamolo in neutrale sbagliato tasto maledizione cambiamo il nome chiamiamolo cani carini perfetto così following mamma mia quanto è brutto tra l'altro le zampe che ha davanti sono veramente minuscole va andiamo via però nel muoversi fa comunque un casino voglia uccidiamo giusto qualche altro pesce perché ci serve altra carne per questi nostri carissimi dinosauroni un tanto grandi non sono ma sono solo dettagli e dai allora non è una buona idea stare troppo in acqua perché arancina muore abbastanza facilmente dato che riesce di annegare per la sua piccola dimensione carni vediamo giusto un altro po' di carne portiamoli nell'altra riva dai muovetevi lì ci sono tanti ma tanti pesci ammassati la quindi faremo una buona scorta di carne perfetto restate là io prendo giusto qualche pesce e poi torniamo nella zona nevata a cercare questo famoso luco iniziamo già ad avere freddo maledizione vabbè adesso c'è l'argentavus che vola speriamo che non si disturbi troppo e ci sono dei mammut ma qui la gente spawna così a caso ogni seconda vabbè sono solo dettagli e c'è ancora il t-rex che vuole due t-rex no ho cambiato idea se non sbaglio lì su c'era un branco di lupi spero che si siano separati vabbè a sto punto vado con sky a perlustrare un po' la zona poi vediamo ciao ciao